Antonio Nicita è stato nominato consigliere del Comitato per il controllo normativo, organo indipendente all'interno della Commissione europea che offre consulenza al Collegio dei Commissari. Lo rende noto la Commissione europea in una nota. La data di inizio dell'incarico verrà determinata successivamente. Il professore ordinario all'Università Lonsa Nicita ha maturato una lunga esperienza in qualità di esperto e consulente normativo per istituzioni pubbliche nazionali e internazionali per società private. Il docente ha ricoperto inoltre la carica di commissario dell'Agicom dal 2014 al 2020 ed è stato membro del gruppo direttivo OX sulla regolamentazione delle tecnologie emergenti, nonché consigliere in materia regolamentare per l'International Competition Network, l'OX, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero delle Telecomunizioni per diverse società.